La notizia che tutta la Fano calcistica si aspettava è arrivata a metà settimana, con il presidente Claudio Gabellini che ha deciso di rimanere al suo posto. Sarà dunque lui il patron dell'Alma Juventus Fano nella prossima stagione e a lui, oltre che ovviamente al DS Menegatti e a Mister Cuttone, il compito ora di scegliere la rosa da iscrivere al campionato. In attesa dunque di conoscere quali uomini vestiranno la casaca granata nel 2017-2018, spazio oggi a tanti altri sport, a cominciare dalle bocce, disciplina che nel fine settimana ha visto protagonisti tanti atleti e società del territorio. Alla bocciofila di Lucrezia, Polsi Rosa in campo per la finale regionale di ritorno della Coppa Italia femminile. Dopo il 4-4 dell'andata, la squadra di Pesaro, guidata da Atos Volpini e Monica Del Vecchio, è riuscita sul filo di lana a superare per 5-3 la compagine di Macerata, staccando così il pass per le finali nazionali in programma a settembre al Centro Tecnico Federale di Roma. Restiamo nella Val Metauro perché la bocciofila di Calcinelli ha dato vita al 21esimo trofeo nazionale giovanile, dove c'è stato un dominio degli atleti di Lucrezia. Nell'Under 18 vittoria di Marco Principi sulla compagna di squadra Chiara Gasperini, mentre nell'Under 15 oro per Nicola Sorcinelli e bronzo per Lorenzo Lucarelli. Da Calcinelli scendiamo a Fano dove sabato ci sono svolte le finali del 15esimo trofeo San Cristoforo Fontanelle, gara abbinata al trofeo Rondina Auto e organizzata in collaborazione dai due sodalizi presieduti rispettivamente da Paolo Marchionni e Pietro Guidi. 136 le coppie partecipanti e vittoria finale nella categoria AB per Stefano Desideri e Carlo Grini della Metaorense, che in finale si sono imposti sui fanesi Franco Pazzaglia e Sauro Paglia Lunga della combattente. Amarotta invece il trofeo nella categoria C, grazie a Luca Roberti e Andrea Sorcinelli, abili a rimontare e battere per 12-10 i padroni Sandro Iacucci e Adriano Serralegri. E restiamo in ambito boccistico per fare i complimenti al fanese Giuseppe Pallucca, 50enne neocommissario tecnico della Nazionale Italiana Senior. Pallucca, già campione italiano, europeo e mondiale, ha ricevuto l'incarico nei giorni scorsi dalla federazione e dal 20 al 25 luglio guiderà la spedizione azzurra ai World Game in Polonia. Dalle bocce passiamo al ciclismo con la città di Fano protagonista nel weekend di due importanti eventi di carattere giovanile. Grazie al GSD Cicogna Ciclismo, sabato è andato in scena il trofeo Festa Giovanile, con tantissimi Under-13 da tutta Italia impegnati nell'anello di 1900 metri all'interno del circuito Marconi. E sempre al circuito Marconi, ma questa volta con percorso di 2400 metri, domenica sono saliti in sella gli esordienti per disputare il trofeo Color Service e Memorial Omer Jommi, gara organizzata dalla società ciclistica Alma Juventus Fano, che dopo il quarto posto al meeting nazionale di sette giorni fa si conferma leader e punto di riferimento del ciclismo giovanile regionale. Chiudiamo con una notizia di tennis, dandovi i risultati del torneo riservato a giocatore di terza e quarta categoria, organizzato dal 2 al 12 giugno al Tennis Club Flaminia. A dominare la Kermess è stato il 34enne fanese Enrico Terzini, che ha concesso agli avversari un solo set sui 9 disputati. Terzini, che oltre a giocare è anche un maestro federale, ha dimostrato ancora una volta tutte le sue abilità sull'erba sintetica dell'impianto di Bellocchi, in cui è riuscito a sfruttare alla perfezione il gioco a rete e il servizio forte e preciso.